Allora raga, discorso serio, ok? Quanto è assurdo che al giorno d'oggi l'influencer sia considerato un lavoro? Allora, non fraintendete le mie parole che gli influencer non mi vengono a commentare È un lavoro, è un lavoro, è un lavoro! Ok, sì, è un lavoro. Poi anche io sono un influencer, cioè un creator, vabbè, sarò, sono qualcosa, penso. E, raga, per me è assurdo. Cioè, non diciamocelo sinceramente, pure se ci sarà qualche influencer che guarda questo video. Quanto è assurdo che la vostra, nostra presenza abbia un prezzo. Cioè, per me è assurdo che magari, che ne so, io devo fare così con questa scarta E mi danno i 5.000 euro, perché l'ho fatto io in non uno sconosciuto. È assurdo. Santa madre di Dio. Allora ragazzi, il punto qui è che con questo video, non lo so, mi ricorda un po' quelle volte In cui una donna si mette a fare un discorso maschilista. Cioè, è proprio quel tipo di discorso, capito? Cioè, tu te lo aspetti da un tizio al bar, il discorso maschilista? Non te lo aspetti da una donna, ok? Eppure esistono delle donne maschiliste. Esattamente come esistono dei gay omofobi. Esistono un sacco di persone, ragazze, che sono dei paradossi. Esattamente come questo tizio qui. Io non so cosa faccia questo tizio, devo essere sincero, non so chi sia. E dopo questo video probabilmente il mio interesse continuerà ad andare proprio così. Ma siamo qui per parlare dell'enorme boiata che questo tizio ha fatto. Dunque, innanzitutto vorrei porre l'attenzione sulla reazione che questo tizio ha messo su. Perché effettivamente, ragazzi, se fai un lavoro sui social, si presuppone che tu questo lavoro lo ami. A meno che tu non abbia probabilmente, non lo so, delle difficoltà. Non so come ti possa venire in mente di metterti a fare un discorso il tipo C'è, assurdo, ma quanti soldi girano, oh! Ma che problemi c'hai? Punto uno. È tutto a posto? Cioè, hai, non lo so, bisogno di un abbraccio, hai bisogno di qualcosa? È assurdo, ragazzi, questo è veramente assurdo. Che io, da content creator, debba vedere un video del genere e debba stare così. Così. Vuoi veramente la spiegazione, caro tizio X, del quale, ripeto, l'esistenza continuerà ad essere mignone? Non mi ricordo neanche come si chiama, devo essere sincero. Ma non perché io ce l'abbia con questo, non me ne frega niente. Il punto è quello che ha fatto e soprattutto ciò che ha scatenato. Questo tizio, riassumendo tutto quello che ha fatto, perché non vorrei incorrere in qualche copyright strike, qualche cosa, perché in questi casi non si sa mai. Insomma, quello che ha fatto questo tizio è stato mettersi là, non so, probabilmente si stava per mettere una maschera a facciare addosso, non so, comunque stava tutto quanto agghindato, tipo come mi metto io quando devo fare la self-care routine, no? Queste cose qui. E si mette là, tutto quanto sbaccato, beata lui, e si mette a fare questo discorso proprio da comare. Non so come dirvelo, ragazzi, io questo discorso lo interpreto come un discorso da comare. Uno che si mette lì e comincia a fare, no, vabbè, è assurdo, cioè noi veniamo pagati perché... Prendiamo caso, questo qui mi metto e faccio, uh, e vengo pagato. Allora, innanzitutto io vorrei, ogni tanto sarebbe bello rimanere nella grazia di Dio, mi rendo anche conto dell'ambito in cui lavoro, e mi rendo anche conto che sia un ambito pieno di gente un tantino imbarazzante, ok? Questo discorso è molto imbarazzante. Sentire uno che sta sui social, capito? Non è che uno che, che ne so, non ha niente a che fare con internet, non ha niente a che fare con questi ambienti, prende e dice, oh, ma questi qua perché li... No, 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 una persona che sta sui social, capito? È proprio un gigantesco passo indietro dopo tanta, tanta fatica, ragazzi, che io e tanti altri content creator, tutti quanti assieme, milioni di persone, da anni, cerchiamo di fare. È qualcosa di veramente imbarazzante, perché poi, capito? Le persone non è che stanno a contare quei milioni di passi avanti piccolini, no, 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 contano solo questo qui. E quindi, se voi andate nella sezione dei commenti sia del suo video che di tutte le pagine che hanno ricaricato questa cosa, c'è uno sconforto, ragazzi, uno sconforto. Tutti i discorsi che un po' di tempo fa si facevano sui calciatori, ok? Un po' di tempo fa si facevano questa roba qua, quindi partiamo con tutte le ovvietà stupide che una persona stupida solitamente dice. Quindi, mio padre fa il contadino, viene pagato totte. Cosa numero uno. Cosa numero due. Io studio da totte anni, allora questo è, allora io voglio guadagnare di più. Questa è la cosa numero due. Cosa numero tre. Oh, ma non hanno competenze, non hanno questo. Cosa numero quattro, cosa ci può essere? Non lo so, ragazzi, i discorsi vengono più o meno tutti quanti su questo tenore. Quindi, lasciate che una persona del settore prenda e faccia poco poco a pezzettini tutto quello che viene detto da questa gente, che è gente senza competenze, ma non soltanto in questo ambito. Io penso proprio a livello evolutivo. Cioè, se tu hai questo tipo di pensiero, per me sei una persona poco evoluta, perché non è possibile. Non è possibile che dopo neanche... cioè, vogliamo contare dall'anno zero ai 2023 anni di esperienza umana alla quale puoi attingere. È impossibile, secondo me, che qualcuno di evoluto, dal punto di vista proprio darwiniano, possa arrivare a fare un discorso di questo genere. Perché per me è assurdo... cioè, questo è veramente assurdo. Che una persona che ha tutta quella... tutta la cultura dell'umanità a disposizione sia comunque a questo livello. Questo è assurdo. Quindi, cosa numero uno. Mio padre fa il contadino, allora perché guadagna di meno? Allora, cari ragazzi, dovete capire un discorso del mondo. Voi non verrete mai pagati in base a quante vite salvate. Voi non verrete mai pagati in base a quanto siete dei bravi ragazzi o delle bravi ragazze. Non verrete mai pagati in base a quanto avete studiato. O perlomeno, aspettate, perché qua c'è un discorso da fare. Ma non verrete pagati perché avete fatto sei anni di medicina, oppure perché avete fatto cinque anni di legge. Non verrete pagati per questo, chiaro? Il fatto che voi siete stati seduti a studiare cosa sacrosanta, cosa sacrosanta per alcuni mestieri, in realtà per tutti, ma lasciamo perdere. Per un sacco di persone vogliono sentirsi migliori facendo certe cose, no? Non si rendono conto del fatto che alcune cose debbano avere effettivamente un'utilità. Ma non verrete pagati per questo. Le persone, sapete per che cosa vengono pagate? Per i soldi che fanno girare. Punto. Questo è il motivo per cui un calciatore fa girare milioni, a volte miliardi, di euro. E questo è il motivo per cui un contadino viene pagato di meno di un calciatore. Il contadino si occupa del cebbi e tutto quanto? Assolutamente sì. Non stiamo facendo un discorso del tipo quale lavoro sia meno o più onorevole. Perché il lavoro, partiamo da questo presupposto, te lo scegli tu. Salvo rari casi, e io li ho vissuti questi rari casi in cui non potevo scegliere che lavoro fare e quindi ti arrangi come puoi, se sei una persona, secondo me, che sa sfruttare certe cose, i lavori più umili li utilizzi per arrivare a fare quello che vuoi. Almeno io ho fatto così. Eppure arrivavo dal basso, dal basso, dal basso, dal basso, ragazzi, eh? Nel senso. Io ho cominciato a lavorare, che avevo 14-15 anni. Non mi vedi qua a fare discorsi del tipo ah ma tu sei privilegiato perché voi siete più privilegiati di me, chiaro? Detto questo, non verrete pagati per questo, chiaro? Quindi tutte le volte che fate discorsi del tipo ah ma io che ho studiato tot non te l'ha ordinato il medico. Non te l'ha ordinato il medico. Se tu studi una certa cosa, vuol dire che lo vuoi fare e devi piacerti farlo, a prescindere da quanto guadagni. Perché se poi sei una persona intelligente e sai sfruttare delle cose che invece denigri, in questo caso i social, tu puoi essere tranquillamente un avvocato e fare zero euro come farne milioni perché sai sfruttare la tua immagine, la tua cosa. Vai a guardare avvocato X sfigatissimo e vai a guardare un angelo greco, ok? Questo è il discorso. Se sei una persona un minimo furba, capisci che certe cose le devi sfruttare a tuo vantaggio. Non per scrivere i commentini sotto le pagine che poi c'è ma cosa pensi di ottenere. Tu hai solo il tempo che queste persone perdono a discutere con degli sconosciuti online là sotto. Io questa cosa non la capirò mai. O perlomeno la capisco da qualcuno che non si lamenta di certe cose. Se tu ti lamenti di certe cose e poi arrivi a fare certi discorsi, non lo so, è imbarazzante. Qual è il punto numero due? Questi qua è assurdo che vengano pagati così tanto? No, non è assurdo che un influencer vengano pagati così tanto. Anzi, dovete sapere che influencer, content creator, perché se devo parlare proprio di me, io non mi considero un influencer, io mi considero un content creator. Poi se andate nel curriculum c'è scritto anche influencer e tutto quanto, perché quella lì la dicitura. Però secondo me, cioè da fare una bella distinzione, io non sono una persona che accende il telefono, si mette a fare due boiate davanti al telefono, comunque quella lì è una cosa che vale economicamente, non c'è niente di male, anzi, è molto più furbo di me chi lo fa, non ho nessun problema ad ammetterlo. Ma, ma, io sono un content creator, quindi qualsiasi cosa vedi io la trasformo in contenuti. Può essere tranquillamente, vi giuro, io saprei farvi un video di due ore su questo qui, ok? Sarei capaci di farlo. Poi il fatto che se lo guarderebbero in due è un altro discorso, però il punto è proprio questo. Un content creator può essere anche un influencer, l'influencer teoricamente dovrebbe essere a prescindere da un content creator. Per quanto sia vero che esistono degli influencer che letteralmente, non sto qui a dire di no, si mettono lì, si alzano la mattina, fanno un post e finita la loro giornata, una volta. Quelli più scrausi, ok? Sì, esistono. Però questa narrativa che viene fatta su tutti gli influencer quando non è vero, voi andate a prendere ragazzi una Chiara Ferragni. Sapete perché una Chiara Ferragni, un post di Chiara Ferragni soprattutto, vale molto di più del vostro? Perché se voi dite a Chiara Ferragni guarda, ti puoi mettere questa cosa, questo gioiello per dire, questa maglia in una foto, milioni di persone vedranno quella cosa e la vorranno. Voi pensate che questo sia gratis? Pensate che la propria immagine sia gratis? pensate che fare questa cosa qui sia gratis? No, perché il mio culo non vale quanto il culo di uno di voi, è chiaro? Ma non perché io sono meglio e non sono peggio, semplicemente perché io nel corso degli anni e sono l'ultimo degli ultimi, quindi figuriamoci uno come Chiara Ferragni, figuriamoci un Fedez, figuriamoci comunque influencer, grossi, ok? Grossi. c'è il motivo per cui mentre voi state là nei commentini a fare tutti questi splendidi discorsi su quanto siete meravigliosi e quanto è e poi vorrei anche vedere perché se hai il tempo di fare quella roba lì mi sa tanto che non sei una persona tanto competente, mi sa tanto che non sei così tanto il migliore del tuo campo, è chiaro? Mi sa tanto che non stai studiando così tanto come dici, mi sa tanto che non stai lavorando così tanto come dici, perché io non avrei mai il tempo di andare lì sotto i commenti a passare intere giornate, non stiamo parlando adesso di fare un video e comunque per me il lavoro, per me più parlo e più mi pagano, è chiaro? No, stiamo parlando di persone per quanto riguarda gli influencer grossi, persone che molto spesso se sono comunque persone di un certo calibro, chiariamo, non stiamo parlando qui del ragazzino che sta lì dopo due mesi te lo sei dimenticato, non stiamo parlando di un Dennis Dosio che letteralmente due minuti dopo non esiste più, no, stiamo parlando di persone che hanno cominciato e hanno evoluto dei business online e non, quindi si sta parlando anche di gente che ha dei dipendenti, gente che ha delle aziende, gente che comunque fa girare soldi nuovamente, se tu vuoi sentirti meglio semplicemente perché in qualche modo sei nato nel giusto posto del mondo, nel giusto momento, sotto il giusto tetto, dalle giuste persone e hai la possibilità di studiare una cosa che a te interessa fare, non sei migliore di qualcuno che semplicemente fa un'altra cosa, perché a te non sta togliendo niente nessuno, non è che i soldi di quello che arriva un influencer arrivano dallo Stato e quindi dici vabbè, quei soldi potrebbero andare in servizie, tutti noi compriamo, tutti noi facciamo, è sempre quel giro di soldi, capito? E non arrivare a capire un discorso del genere per me vuol dire veramente avere dei limiti evolutivi, perché hai tutti gli strumenti, gli stessi tra l'altro con cui scrivi queste boiate, per andarti a informare e non ci vuole un genio, tu mi puoi scrivere letteralmente su Google chi paga un influencer e ti esce tutto quanto è. Sai chi li paga gli influencer? E come, cioè, a me dà fastidio questa cosa, perché dire sai chi paga gli influencer è un po' come dire sai chi paga il demonio? Ah, lo sai chi lo paga? No, no, perché un influencer sta vendendo un servizio, punto. Se con un mio post per dire, perché anche io faccio questo lavoro e anche il tizio che ha fatto sto video fa questo lavoro, soltanto che mi chiedo veramente che a questo punto mi chiedo che è che lo paghi un tizio del genere perché se arrivi a fare un certo discorso io dubito che tu abbia ben capito dove ti trovi e che cosa sei lì a fare e soprattutto non è lì a fare, capito? Cosa dovresti amare fare? Perché effettivamente proteggere questo settore, proteggere la dignità di questo ambiente secondo me dovrebbe essere un dovere del creator e invece un sacco di gente non vede l'ora di prendere e tirare pomodori addosso al proprio mestiere soltanto per dire oh, lo vedi che io sono diverso? Sì, lo zii, sei diverso esattamente come il pomodoro marcio nel mio frigo è diverso dagli altri che sono buoni non peraltro, capito? Oltretutto, quali sono le competenze di queste persone? Uh, qua vi voglio, qua vi voglio, perché io di competenze ne ho da vendere, io ho competenze in ogni singolo ambito che mi riguarda, ogni singolo ambito, perché per fare quello che faccio io serve studiare ogni giorno, non basta un foglio di carta, chiaro? Non basta il dire ah, ma io sono laureato in questo e quest'altro, no, per fare quello che faccio io almeno parlando per me, il foglio di carta non serve assolutamente a nulla, almeno non serve a nulla se non hai passato un determinato periodo di tempo a fare certe cose, chiaro? Perché tu puoi avere veramente tutti i fogli di carta che vuoi, tutte le cose che vuoi, ma se alla gente gli stai sulle palle, non ti fila, non ti guarda, non ti fa niente, e queste cose non sono cose che si imparano così in un corso di studi, chiaro? Sono delle cose che uno deve evolvere sul campo, ma voi pensate veramente che i soldi piovano dal cielo ragazzi? Pensate che basti veramente esistere come dice questo tizio qui per venire pagati? No, non è così, assolutamente no, perché altrimenti basterebbe anche che uno di voi esistesse e ripeto, quando faccio un discorso del tipo noi, voi, io intendo il voi, non chi sta guardando questo video, il voi, chi fa questi discorsi, ma secondo te, se bastasse essere veramente vivo per essere pagato per fare una cosa del genere, ma non pagherebbero te? Giusto per chiedere, capito? Ma secondo te Cristiano Ronaldo è lì semplicemente perché, ah ma guarda, è lui, sull'anagrafico è scritto Cristiano Ronaldo che il culo si è chiamato così, oppure semplicemente perché è lì per un motivo, è un motivo per cui non ci sei tu al posto suo, sarà questo il motivo? Sotto questi posti ho letto una disinformazione allucinante del tipo Anova su YouTube, ogni mille visual si fanno 2-3 euro, ma chi ve le ha dati questi dati? Ma dove? Infatti appena si chiede un po' più di informazione a questa gente acchiappa e comincia a tergiversare, a fare no ma io sapevo, dicevo. Ragazzi, allora, i boccaloni esistono al mondo e non sto qui a dire di no, esistono, sono sempre esistiti e sempre esisteranno e preghiamo a Dio che continuino a esistere perché mi fanno fare tantissime risate. Il punto però è proprio quando questo essere boccaloni arriva dalla persona sbagliata, capito? Arriva da un qualcuno che dovrebbe essere dalla parte di quelli come lui. Ma soprattutto ragazzi, io devo farmi una domanda, ok? Perché purtroppo non sono molto aggiornato per quanto riguarda il seguire ogni singola cosa che succede sui social, ok? Perché quando crei non hai il tempo per guardare gli altri, ok? Io non mi ricordo l'ultima volta in cui mi sono seduto e ho guardato il video di qualcun altro. Devo essere sincero, non me lo ricordo. Comunque, quello che voglio chiedervi è veramente se questo tipo di atteggiamento da parte, penso che sia un mio coetaneo questo qui, quindi da parte degli influencer, dei content creator miei coetanei, sia effettivamente un atteggiamento che va di moda perché per me è agghiacciante una persona che si mette lì fa questi discorsi con questo modo di fare per me è agghiacciante. Cioè, non lo so, io mi sentirei un idiota a pubblicare una cosa del genere. Proprio che non mi viene in mente un contesto sensato in cui io prendo la videocamera, metto qua, faccio no, beh, ma lo sapete, assurdo, assurdo, sapete, è assurdo. Ragazzi, mettete like. Non mi viene in mente, vi giuro, non penso che possa esistere un universo nel quale una persona prende, si mette a fare una cosa del genere. Invece esiste, il nostro. Non lo so, ma vi sembra normale? Ve lo chiedo veramente, ragazzi, vi sembra normale? Posso dirvi qual è la mia routine tutti i giorni? Io mi alzo tutti i giorni alle 6 e vado a dormire verso mezzanotte e nel corso della mia giornata io lavoro, mangio, lavoro, palestra, lavoro, dormo. Questa è la mia settimana dal lunedì al venerdì e per molti anni è stata la mia settimana 7 giorni su 7, 24 su 24 senza la palestra. Se qualcuno che passa tutto il suo tempo tra serie Netflix bellissime per carità, aperitivi, questo, quest'altro, si sorprende del fatto che una persona che ha uno stile di vita più serio ottenga più risultati sono affari suoi e quello che ho potuto vedere andando a spulciando un po' dei profili che hanno commentato questa roba qui è che è esattamente questo tipo di persone. Io non ce l'ho con nessuno, chiaro? Cioè io guardo una persona così vedo ok questa persona è giovane non così tanto quindi un pochino di dispiacere mi viene in testa però rifletteteci di più quando dite un qualcosa del genere perché l'unico motivo per cui siete in un certo punto della vostra vita salvo rare eccezioni che sono delle eccezioni modificabili se ve lo dice con uno come me credeteci è semplicemente il modo in cui vivete è semplicemente quello che fate. Io so che un sacco di gente della mia età prende e va a dormire alle 5, alle 6 di mattina per poi svegliarsi a mezzogiorno alle 4 e poi si sorprende. Queste cose ragazzi mi rendo conto di essere un po' tanto fondamentalista dal punto di vista dello stile di vita però nel senso non conosco nessuna persona di successo che prenda e si alza alle 4 del pomeriggio a meno che non lavori di notte. C'erano sempre un po' delle clausole delle cose ma io non conosco nessuna persona di successo che abbia fatto successo stando tutto il giorno a commentare quello che fanno gli altri in questa maniera che abbia fatto successo prendendo e facendo cose così e soprattutto con questo stile di vita e con questa mentalità. Se non vi levate questa mentalità di dosso voi potete essere anche i più grossi laureati avvocati del mondo io ve lo auguro ma sarete sempre là in basso a guardare altre persone e chiedersi ma come mai quello sta là sopra perché mentre tu stai a commentare le paginette quello lì lavora punto grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.